buonasera a tutti la scorsa volta abbiamo avuto come ospite la dottoressa paola bisio pediatra di zona per parlare di alimentazione nei bambini questa sera abbiamo invitato il dottor roberto chiappa ciao roberto buonasera a tutti e per parlarci di benessere e salute invece per gli adulti questa volta io ti cedo la parola e vediamo che cosa ci racconti sì allora abbiamo sentito volentieri la trasmissione della scorsa volta la dottoressa bisio nella trasmissione che ha tenuto e devo dire che ci sono parecchi punti fermi che valgono sia per gli adulti oltre che per i bambini allora io questa sera vorrei allargare un pochino la puntata l'argomento anche per quanto riguarda l'aspetto fisico che è quello di mia materia di competenza ecco allora abbiamo visto con la dottoressa che l'alimentazione fondamentale infatti io vorrevo principalmente presentare cinque cardini che dovrebbero essere un po quelli che permettono di avere una condizione di salute migliore rispetto a quella che non hanno le persone sedentari le persone che non curano questi aspetti allora il primo sicuramente il discorso alimentare sentivo la dottoressa che parlava proprio della suddivisione della quantità e della qualità dei cibi quindi non soffermarsi troppo su un aspetto che può essere quello dei carboidrati mangiare tanti carboidrati oggi è diventato un po una moda ma sappiamo benissimo che questo comporta tutta una serie di problematiche non ultimo il diabete che negli adulti diventa tante volte molto 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 determinante per la qualità della persona che si mangiare appunto ortaggi frutta e verdura controllare anche le proteine non esagerare nemmeno con quelle ecco cercare di bilanciare un po il tutto quindi l'alimentazione sicuramente è uno dei cinque cardini che ci siamo imposti essere alla base di una vita salutare la seconda è imparare a bere anche la dottoressa se la soffermata su questo aspetto ecco purtroppo oggi beviamo molto poco beviamo cose che sarebbe meglio limitare le bibite gasate piuttosto che gli aperitivi alcolici e andiamo a sostituire con questi il bere acqua che invece è molto molto importante ricordo che il corpo è composto principalmente da acqua quindi ha bisogno di essere integrato di continuo e non c'è bisogno di aspettare quando si ha sete a bere perché quando si ha sete si è già un po in disidratazione quindi bisognerebbe bere poco e più volte al giorno anche perché tante persone pensano che ho mangiato un frutto in più quindi è già acqua e bevo meno ed è sbagliato ed è sbagliato infatti bisogna continuamente integrare e poi qua ci spostiamo invece sul discorso fisico che è quello un po più di mia competenza dove chiaramente l'attività fisica è determinante ma soprattutto è importante riuscire a scegliere anche il tipo di attività e non solo legato a quel che piace che è sicuramente importante perché fare attività fisica facendo qualcosa che piace sicuramente pesa molto meno ma bisogna imparare a guardare un po anche quelle che sono le esigenze della persona è chiaro che una persona di 50 anni che è sedentare non si muove mai non può pensare di andare a giocare a padel la prima volta che si mette a fare attività fisica altrimenti gli effetti collaterali negativi dell'attività rischierebbero poi di protrarsi per una settimana anche due quindi bisogna cercare di guardarsi un po lo specchio con molta onestà vedere un po come siamo e approcciare l'attività fisica in base alle condizioni fisiche che abbiamo poi scegliere anche il momento in cui farla perché un conto è fare la mattina un conto è farlo il pomeriggio la sera l'attività fisica di endurance di solito si consiglia di farla la mattina il pomeriggio o magari la prima parte della serata non farla prima di andare a letto magari le attività fisiche che richiedono un po più di tranquillità un po più di relax aiutano sicuramente la sera rispetto alla mattina penso allo yoga piuttosto che lo stretching la ginnastica posturale ecco queste attività il pilates sono attività che aiutano sicuramente tanto a rilassarsi a scaricarsi e permettono poi di poter dormire meglio la notte anche perché il dormire fa parte proprio dell'organizzazione l'abbiamo fatto ancora in passato una puntata su questo è importantissimo come ultima cosa mi sento di dire che è fondamentale anche soprattutto imparare a respirare bene la respirazione è un aspetto che la nostra società occidentale tende a trascurare un pochino noi siamo respirazione perché è il primo atto che mettiamo in atto quando nasciamo e quindi respirare e imparare a respirare utilizzando il diaframma prendendoci proprio dei momenti degli spazi per poter stare tranquilli respirando con calma penso alla sera torniamo ancora il discorso dello yoga dello stretching imparare a rilassarsi attraverso la respirazione aiuta ad allenare tutta la parte respiratoria l'apparato respiratorio che è fondamentale per poter vivere bene quindi questi cinque consigli qua che dicevo sono un po la base del buono stato di forma e di salute delle persone ti ringraziamo per i tuoi consigli sempre preziosi e vi salutiamo arrivederci e buona serata buona serata